È un appuntamento ormai consolidato del 1 maggio. Anche quest'anno Piazza Riostea torna ad essere la protagonista del Trofeo Internazionale del Lavoro Città di Ferrara di pattinaggio Corsa su Strada. Un evento sportivo e solidale che avrà una anticipazione il 30 aprile. È un primo maggio che comincia il 30 aprile perché abbiamo deciso già da alcuni anni che non era giusto far pattinare solo i campioni in Piazza Riostea. È bellissimo vedere i campioni in Piazza Riostea, ma è giusto anche che la manifestazione si apra alla città e si apre in maniera aperta a tutti. E come lo facciamo? Lo facciamo con dei giochi. Ferrari Line Roller Game, questa manifestazione promozionale aperta ai bambini, all'inclusione e al valore sociale dello sport, nel quale noi cercheremo di far pattinare tutti. Porteremo in Piazza Riostea un campione mondiale come Erika Zanetti con la Roller Blue School e la scuola pattinaggio Ferrara e insieme cercheremo di far pattinare tutti quanti insegnandogli o anche facendogli provare un piccolo percorso di estrezza. L'evento è organizzato dalle associazioni sportive Ferrara Hockey e dai pattinatori Bologna, che hanno evidenziato la centralità di questo sport nella nostra regione. Non a caso nella nostra regione si svolgono i trofei più importanti del patinaggio nazionale. Questo del primo maggio a Ferrara, poi c'è stato a inizio aprile, la settimana dopo Pasqua, un trofeo internazionale a Bologna su pista, che è l'altra disciplina del patinaggio corsa. E poi sempre in regione, a metà giugno, avremo il trofeo Tiesi per le categorie più piccole. L'appuntamento al patrocinio di diversi enti e istituzioni, tra cui il CONI ed il Comitato Italiano Paralimpico. Avremo la consegna di una targa, perché la società di patinaggio ha vinto un contest importantissimo, 10 società in tutta Italia e loro sono aggiudicati questo premio importante, sia economicamente che dal punto di vista dell'immagine, che naturalmente vedrete una targa bellissima. Il discorso che noi ci auspichiamo è che la Federazione Italiana faccia un accordo con il Comitato Italiano Paralimpico per entrare nel discorso di fare attività in questa specialità sportiva anche ai ragazzi con disabilità fisica, sensoriale e intellettiva.